Ancora? 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 La storia è una strada come questo tappeto bianco che hanno percorso soltanto loro. Allora, la prima volta che ho conosciuto Cristian è stato all'oratorio nei periodi da motorino che da mezz'anni veniva a Malpaga ma si sapeva che a Malpaga c'erano le mie ragazze. Mi stava talmente antipatico, era talmente arrogante. Non andate di lì questa cosa. Oggi proprio. Oh lo sa, lo sa. Però, mamma come mi piaceva il suo naso. Al fine, cosa è del... Al fine, cosa è del life. Anche qui... No, no, no. E mi fa bene. Bene, grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Un giorno fantastico e tanti auguri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.